eravamo arrivati saliamo da qua, dobbiamo scendere dobbiamo scendere da qua ecco qua, va a Cristo Dio, va a vedere si, no, siamo saliti qua, siamo arrivati da ora dobbiamo tirare di qua ah, quindi ci dobbiamo buttare giù? no, a casa angota ok, sei pronto? perchè tutto il mondo al contrario? perchè tutto il mondo al contrario? ok, sei pronto? va, vecchio anche il sangolo qua perfetto, 3, 2 ciao a tutti ragazzi, qua per la vostra sfortuna check smurri e bentornati bentornati, no, per secondo me allora, ah, ecco, sì, adesso mi ricordo comunque, visto che secondo solo ovviamente noi recchiamo tipo 3-4 episodi di fila perchè poi ovviamente non ci troviamo mai follow the pumpkin, look for the vines follow the pumpkin, porco bene ah, dobbiamo seguire le pampine ma che cazzo, dove sovrotorra? oh, porca troia ah no, ok, 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 ok spawni sotto dove c'è il... ma sta reccando la cam? sta recando sta recando l'hai fatto? mingao, non l'ho preso tu non la prendi mai beeeella, sexy le zucche trovo le pumpkins le pumpkins, oh si che le trovi una è qui, l'altra è in fondo devi salire le liane che cazzo vuoi? ma l'ho messo tipo impostazioni video brillante oh, come me come me una persona brillante si, si, si oh, video giusto basta ok se devo ruttare cazzo è save scusa, tu sei andato lì? si ma sei coglione devi vabbè, questo si fa di cocain come hai fatto? han fatto devi prendere che cazzo è che sta ballando perché devi prendere le pumpkin le pumpkin, le liane poi sali vai tutto in fondo e c'è l'altra zucca e sali oh, porca troia che sei limitato ecco però dovresti prendere la liana non cadere che cazzo è? ah, perché ho salvato gg eh, boh adesso oh perfetto siamo di imbecillo ah, guarda dove è l'altra pumpkin bene è l'altra pumpkin guarda guarda che ora ci sono tre ore bravo bene ci siamo bloccati ottimo perfetto non è vero io no ultimissimo guarda mi sento cazzo guarda mi sento Gizz lo spermatozoo quando si va a scontrare contro le pillole anticoncezionali ok chi è che non giocava a Gizz lo spermatozoo su Buster di dentro ok cazzo io ci giocavo io no bene non so nemmeno di cosa stai parlando ma ok ottimo ottimo vibra tutto allora dove cazzo è l'altra pumpkin che culo che culo dove è? piglialo su un umbilità va bene dove? non ho capito e mo? ah ci sono le rognatele e mo fo co infatti dove la sai? aspetta sono uccili senza zucchero beh mo ah cazzo è amare certo hop 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 gaccia hop hop pisando guarda 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 che crap bene 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 scrotto scrotto ok ci siamo perché sto cadendo ti fai tanto malino no ci sono le lui froscio va a cadere non ci sono le schifo lol vabbè ok entriamo di qui cioè comunque questo è un livello del cazzello dello scorotto bene mi piacciono gli scor ok bene basta wait a bit till the scenery is loaded minchia si deve che cazzo che cazzo fai? iscriviti che cazzo ci ha scritto impossible staircase ok allora Kiki eh sto così mi chiede Oh, perfetto, sto pisiendo Level Colors Sto scorreggiando come un ossesso Menomale che non sale il fumo nel video Bene Il fumo, comunque, ovviamente Vabbè, se ti fai caldi caldi Tra poco sale la puzza Bene, level 14 Colors Bene Oh, Colors già mi piace Che trip Aspetta, questo me lo faccio senza F1 Come si leva, così? Pronto, 3, 2, 1 Vabbè, niente Una bomba Che figata Ma che figata Oh, cassa, diamanto Diamanto è per sempre Aspetta, questo pure con F1 E con il fob è aumentato Vabbè, questo è proprio trip onimentali Dov'è, impostazione vivo Dov'è il fob? Questa è il fob? Lui no? Cos'è il fob? Cos'è il fob? Cos'è il fob? Cos'è il fob? Ah, che puttaneva Oddio, ha paura Pfff, ho fatto una faccia bruttissima Ok Ah, tu le ditte con la faccia ovviamente Ce l'ho tutti Sì, ce l'ho tutti Io mi butto di sotto Ma che cazzo è quella cosa sotto Bellissimo Proprio bellissimo Bellissimo Bene, salviamo Settiamo il pisello Bene Bene, piselloni Uno qui Hop hop Gadget Bene Allora, cos'è? Look straight Move only left and up Oh puttanevo Look straight Bene Perfetto Perfetto Ottimo 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 Bene Eh, santo Dio Dobbiamo rimanere nel portale Ah, dobbiamo Comunque Comunque capiamo le cose Sì Perché non era per evitare Cristal Guarda, guarda che non lo prendo Guarda Dio Santissimo Guarda Bene Ottimo Porco Per un pelo Caccia di bunda Guarda per un pelo di nuovo Alleluia 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 Porco Per un pelo Porco Troia Eh, va, va Si sbara Magari È fatto in modo tale Che proprio Ci devi stare tutto Il percorso Come tempo Se no non ce la fai Infatti È salato qui Lui e mori No Per un pelo Per un pelo Per un pelo Allora, devo dire una cosa Devo dire come Come è combinato Il percorso Tipo senza Allora Proviamo così Ah, e poi va sulla sinistra Poi va sulla finistra Poi va sulla sinistra Facciamo una cosa Tattica Facciamo Asì Destra Sinistra Cristo Sinistra Cristo Infatti Beh vabbè Sì Culo Amma Infatti Leggiamo nei commenti Che alcuni mi dicevano Io ho fatto 30 file Cioè 200 file Dicevo E guarda Guarda come ci vuole male Il padre Vabbè sì Sta funcia di minchia Boom Bello Mi piace il bloop Mi piace baciare Ok Io prendo sempre lo sigaro Che è bello Il meraviglio Poi diventa tutto viola Sborro E non capisco Dove vado Un salto di qua Ci sta Oppla Oh ecco Ah 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 Siamo dai Che coglioni La dà più alto Forse Non è vero 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 Perché Vedi Parte però più Oh Coppa Ma che deficiente Allora Guarda Sì la mia Mi minchia È deficiente Vieni qua Guarda che Dove Guarda Allora ti metti Guarda la strada Ti metti tipo così E ti butti guardando Quella stradina E la segui con la freccetta Ma quella stradina Guarda che c'è di fronte Compa Segui la stessa via Del portale Perfetto Ma che testa di cazzo Ma proprio Che testa di cazzo Dai 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 Sì Sì Cazzo Sì Un orgasmo Mi dicevano Siamo uguali di file Oh Cristo Oh Cristo Tutto rosso Perché Sì Sì Ce l'ha fatto Pozioni di guarigione Pozioni di rapidità E pozioni della visione Di sta funcia Vai Allora me le bevo tutte Di sta funcia Uno Due Tre Corri Scappaccia il Nemesis Cazzo di me Tutto rosso è fighissima Ma perché Cosa c'è qua Human Earth Perfetto Che cazzo Human Earth Perché sto cadendo Il cuore umano Qualcuno sta cadendo Sto caduto Perfetto Che cazzo è Human Earth Bene Sono morto Ottimo Perfetto Mi piace questo gioco Di merda No che cazzo è Che sono ricaduto qui Non ci credo Perfetto Che cazzo ha Visione notturna Ma Porca dio Una troia Eva l'orcia Si ma io vado avanti Io vado in culo Bene Mi spiace Mi piace Bene Ottimo Cazzo Non ce ne riesco più Accendino Boh Mi buttano il portale Vediamo dove cazzo mi porto Sì ce l'ho fatto Oh cristo Devi andare nel portale Che cazzo è Tu vieni Che poi vedi I bei santioni Che metti Molto bene Sta arrivando Bene Che cazzo Vi ho teleportato Ok nel livello 16 Nel livello 16 Non lo so Forse quella era una Molto bene Non lo so Ma sto arrivando Aspetta un attimo Aspetta Se crepi Ho ripresentato lo spawn Sarà tipo un altro Non lo so Che cazzo era quello di prima Comunque Ammarcha il teleport Ammarcha il teleport Dai aspetto te Porca troia Aspetto te Oh bene Blood Bene Io vado a vedere quella cosa Qual era Cosa era bella Cosa era bella Level 11 Sangue Cristo 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 Ah Ci sono per i colboli bianchi Tipo Ah per un pelo Ti giuro Per un cazzo Oh ce l'ho fatta Ah c'è la prima colpa Oddio Ah fratello Questa sembra dentro al cuore umano Ecco Bene Vai guarda quanto cazzo ci metto mo Guarda guarda Devi guardare E ti guardo dal basso ovviamente Perché è divertente Bella Vai Buono Bella Dio Bravo Eeeh 66 66 Attenzione Oddio 666 Cos'è? Mi diciamolo che secondo me No ok È tutta lana Ho un acerino quindi qualcosa dovrò accendere Oh non è vero Posso anche accendermi il cosè Game over Pah 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 Congratulations The game ends here Did you find the same diamonds? Ovviamente no Did you find NNNNNV Ovviamente no Check my other map Sti che ancazzi E che cazzo è sta cosa? Abbiamo finito la mappa No, è tipo boom, gg LOL Cosa è sta cosa? Settato lo spawn Ok Adesso poi per rifare i... Aspetta c'è un livello di esperimento, l'ultimo Dov'è? Guarda Eh facciamo anche il livello di esperimento Cioè, esperimento al level Oh, io fazz Oh cristo santissimo Che cazzo è? Oh cristo, oh cristo Guarda, LOL C'è un teleport continuo Oddio, vabbè questa cosa non ha senso Comunque tu puoi anche stoppare il video e la serie Perché tanto da qua non te riesci più Aham Sì, sì, no, ma hai ragione Ovviamente Perché non parli più? Perché non parli più? Cosa fa? Perché non parli più? È